partiamo assai città la nostra carica domani provo a podio adesso vado a fare colazione la nostra carica domani provo a fare colazione 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 domani provo a fare colo Dai Auri carica Dai dai arrivo Dai Auri carica Arrivo 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 Don't prove me wrong Go put up a fight The will do, will do will knock you down You know there's emotion between us Don't, don't cry about it Don't, don't cry about it You want me to take you in my trust Oh no, you know that ain't the way Oh no, there's nothing new in this game You got to give it up, give it up Give it up, give it up Dai Auri Dura, brava, finisci Chiusa Dai, dai Dai Auri, tranquilla Dai, 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 chiusa Dai, forse Di qua Brava Auri Mi è piaciuta questa gara? Io sono appena tornata, infatti Come vedete sono ancora vestita dalla gara Sono felicissima perché ho una squadra favolosa Con cui ho legato tantissimo con tutte Anche se abbiamo avuto mille difficoltà Abbiamo lottato tutte insieme E ce l'abbiamo fatta E siamo riuscite a rimanere in Serie A2 Ringrazio tutti i miei allenatori Perché stanno credendo in me Tutte le mie compagne che mi stanno sostenendo Dal primo giorno che sono arrivata in palestra Ma ringrazio anche voi fan che mi date la carica per andare avanti E non mollare mai Vi voglio bene Per quanto riguarda la mia gara Sono super felice Anche perché a trave sono riuscita a non cadere Ho fatto un bel volteggio Questa volta quasi stoppato Parallela lasciamo stare anche perché Come vi ho detto Ho molto da lavorare E lavorerò duro Ce la metterò tutta Per fare un bel esercizio Ve lo prometto Corpo libero sono sempre un po' arrabbiata Anche perché non sono riuscita A fare un arrivo decente A questo maledetto doppio carpio Però sono contenta di averlo fatto in piedi E non di aver fatto quella caduta bruttissima Poi peccato che le gare sono finite Quelle di squadra Mi piaceva farne altre Ci alleniamo duramente tutti i giorni E quello che conta è sempre dare il meglio Nonostante tutte le difficoltà Dolori, infortuni, delusioni Come avrete visto sicuramente nei miei video Le gare certe volte vanno meglio E altre volte vanno peggio Importante è tornare in palestra più cariche di prima E dare il meglio di noi stessi È lì che dobbiamo dimostrare realmente Cosa sappiamo fare E poi anche in gara Bene ragazzi e ragazze Questo video termina qui Spero vi sia piaciuto vedere questa mia gara Se non avete ancora visto i video precedenti Vi lascio il link qua sopra Mi raccomando andatela a vedere Perché mi dovete far sapere su Instagram Qual è la gara tra le tre Che vi è piaciuta di più Della tappa di serie A Come sempre se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivando anche la campanella Così verrete avvisati ogni volta Che uscirò il mio nuovo video E seguitemi anche sugli altri miei social TikTok e Instagram Mi chiamo in questo modo Auri-Gymnastics Ci vediamo come sempre domenica prossima Auri 12 E vi mando un grosso bacio Ciao Bye bye Ciao 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 Grazie.